tragico lutto francesca carocci muore a 28 anni per un infarto venerdì 6 settembre 2024 è giunta la notizia al pubblico che l'attrice italiana di 28 anni francesca carocci è deceduta a causa di un infarto secondo i rapporti era stata recentemente dimessa dall'ospedale dove era stata trattata per problemi di salute francesca carocci conosciuta per le sue straordinarie performance recitative lascia un grande vuoto nel panorama cinematografico e teatrale italiano la sua carriera iniziata nei primi anni 2010 ha compreso sia ruoli in film indipendenti che apparizioni in produzioni teatrali di prestigio carocci si è distinta per i suoi talenti versatili e la sua appassionata dedizione all'arte le esatte circostanze che hanno portato alla sua morte improvvisa non sono ancora del tutto chiarite fonti hanno riferito che soffriva di una particolare malattia cardiaca diagnosticata di recente questo è stato confermato dai loro professionisti medici è stato anche notato che è stata dimessa dopo un breve periodo di ricovero a causa dei suoi problemi di salute i medici l'avevano incoraggiata a prendersi un momento di riposo e a seguire i controlli medici necessari ma la sua improvvisa e inaspettata assenza ha sconvolto tutti nella onda di shock che ha seguito la notizia della morte di carocci i suoi fani colleghi hanno sommerso i social media con messaggi di cordoglio viele beschreiben sie als talentierte künstlerin die mit ihrem strahlenden lächeln und ihrem unverwechselbaren charisma das pubblico verzaubert ha trovato è un attenzione di rosso e il suo carisma inconfondibile Numerosi compagni di viaggio hanno condiviso ricordi emozionanti e lodato il suo instancabile impegno per la recitazione. Un omaggio particolarmente toccante è arrivato da uno dei suoi vecchi amici e colleghi, che ha ricordato quanto fosse appassionata nel parlare dei suoi ruoli e quanto amasse l'arte. Ecco la traduzione del testo in italiano. Osservò che Carocci ha sempre creduto che gli attori siano gli ambasciatori di emozioni e esperienze che riflettono la vita e la cultura di una società. Li definì una fonte di ispirazione, non solo per i loro colleghi, ma anche per i loro sostenitori. Per quanto riguarda la comunità artistica, la perdita di Francesca Carocci non è solo una perdita per il suo ambiente immediato, ma anche per l'intera scena culturale italiana. Esperti e critici sottolineano che era una voce sempre più crescente nel panorama del cinema e del teatro moderno, e rimane incerto come si sarebbe sviluppato il suo percorso nei prossimi anni. Questo periodo di lutto potrebbe quindi rappresentare anche un tempo di riflessione sulle sfide e le lotte del settore, nonché sull'importanza della salute mentale e fisica degli artisti, che spesso si trovano sotto immense pressioni. Dietragic della sua morte getta anche un'ombra sulle misure mediche che gli artisti ricevono durante la loro carriera. Le domande sulla qualità dell'assistenza medica e sul follow-up per i giovani attori sono più attuali che mai. Ci si augura che l'industria impari da questa dolorosa perdita e prenda misure future per sostenere gli artisti e il loro benessere. Addio Francesca.